ATP 250 Mosca. Nella capitale russa guidano i sedi in due spagnoli Pablo Carreno Busta e Albert Ramos Vinolas. Il detentore del titolo è proprio Carreno, che trionfò in finale contro il nostro Fabio Fognini. Sono tre gli italiani presenti in tabellone. Paolo Lorenzi, settima testa di serie, affronta il serbo Las Loggere, Andreas Seppi se la vedrà con il cieco Giri Veseli, mentre Thomas Fabiano ha pescato il vincitore di San Pietroburgo Damir Zumur.